dobbiamo buonasera a tutti adesso abbiamo la poetessa la poetessa Camilla che ci eleverà lo spirito vai poetessa Camilla il magnetismo della luna è una forza spettacolare che molte cose vado a influenzare a me fa volare su di un carro di luce ed una potenza stellare quando è piena ho voglia di cantare e ballare e quando c'è l'eclissi un po' la testa mi fa girare ed un grande caldo dentro mi fa circolare il mio rapporto con la luna è speciale e se la guardo mi saprà consolare e vai! però come prima c'era anche scorreggiare ricordati anche la fatina con la luna! perfetto quello anche ogni tanto scappa ho messo la fatina con la luna ma quando ti scappa? perdi l'equilibrio? allora Jacopo tu poni la domanda era questo? devo riporre perchè hai fatto partire il video? certe volte mi dimostri un'astuzia a livello di laurea grazie questo era proprio lo prendo come un complimento dal buco del culo allora ma 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 dal diretano volevo dire ma te rendi conto questo se lo metto su youtube no ricominciamo da capo non si può guarda che fa più bifo non si può 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 abbia pazienza non si può cioè cazzo si può dire ma non bisogna andare poi nel tuo piloglio dai incominciamo su ci salta la poesia ma ce la direi alla fine o lo taglio insomma dai nello schema che hai fatto di naturopatia dei 12 sinistri legali nei pesci nella seconda parte c'è scritto tra le tre cose c'è scritto stabilità e io volevo sapere se fosse solo stabilità fisiologica o è anche intesa stabilità emotiva perché nei pesci ci può stare la stabilità vediamo un po' la sorcetta sta guardando in alto sta pensando ha visto l'idea in alto l'illuminazione si vede sì l'illuminazione no stavo pensando alla domanda di Jacopo e secondo me può essere concepita anche come stabilità emotiva quella dei pesci perché comunque è un'acqua calma per cui può essere anche la ricerca della stabilità emotiva i pesci è l'acqua delle profondità dell'oceano le acque profonde sono dove va colava Nettuno che sta vicino a Anzio perché allora perché ho messo stabilità forse io non lo so sempre l'alcol mi fa parlare a volte non si sa che quello che dico ma perché posso aver messo stabilità a pesci? questa è la prima domanda per i piedi per i piedi ok e ora voglio sentire altri che mi dicono perché stabilità e piedi possono essere connessi e faccio anche un'altra domanda in caso di non stabilità emotiva si vuole essere stabili in piedi? no a tutti sono arrivata ora ho sentito che parlavate di stabilità oh la bella fighera è ora di lavorare di stabilità parlavate ai piedi? si Jacopo dice perché a naturopatia io ho associato stabilità ai pesci che è il segno dei piedi e voleva sapere se era anche psicologica o era solo fisiologica e allora io ho fatto una giunta voi dovreste smuovere i neuroni è facile poi ci sta gente che fa yoga per il senso di radicamento la domanda era se si può essere stabili con una mente agitata con un emotivo alterato no con una mente agitata no no ti metti in piedi vuoi ricercare la stabilità ma perché un pazzo non può stare in piedi ma non è stabile non è stabile ah sbarella si poi se ha il tremolio una persona un po' instabile ma no senza il tremolio ma se tu vedi cosa fa chi è stabile per eccellenza proprio come dovere chi fa le arti marziali no ah equilibrio chi ha detto equilibrio io giusi giusi ho un senso di equilibrio no stabile non c'entra con equilibrio se tu stai in equilibrio io ti tocco tu ti squilibro quando io nello yoga l'ho fatto fare varie volte ho fatto fare quello che si chiama radicamento poi sono andato vicino alle persone che hanno dato un forte colpo su una spalla o sul petto alla persona e rimasta lì se invece una persona la metto senza fargli fare la stabilità quello si può fare a yoga è divertentissimo tu dai un colpo alla persona questa uscilla cade indietro e ti manda pure a quel paese ma se gli hai fatto fare il radicamento attraverso una serie poi di cose fisiche se non è indotto cioè anche indotto per carità la persona rimane lì e non si muove sembra che sia piantato a terra chi è che se lo ricorda l'ha visto chi l'ha visto quando si fa il martedì Francesca Francesca l'avrà visto almeno lei ah ma certo anche io l'ho visto credo due anni fa anche dove l'hai visto sì sì cioè davo le spinte forte sulle persone non si muovevano sì sì poi alcuni cadevano anche quello che cadeva se ne arguiva che non si era radicato ma quelli che si erano radicati era impressionante perché gli davo dei colpi forti e non si muovevano vero? sì c'è chi lo yoga lo prende per un succo di frutta e quindi quando fa la pratica c'ha quella l'elevatezza mentale ma se ti porto io una volta avevo fatto una meditazione sul radicamento con Daniela a Torino e era avevo i piedi praticamente ero in piedi la meditazione si si faceva in piedi e i piedi mi sembravano incollati sul pavimento cioè non si muovevano non uscire sattanti la saga era spinta quella lo faccio attraverso esercizi però posso dire che mi sono seduta per terra e i piedi sono rimasti lì incollati e quindi non sei voluta tornare a casa hai strappato i tappeti per tornare a casa che hai fatto? no poi dopo no ma è una sensazione forse di sì di fermezza amore mio ascolta la sensazione può essere un'induzione no? sì mentre se uno ti dà una spinta e non ti muovi non è un'induzione eh quello non l'ho provato quindi non lo so però Dumitrida l'ha visto tu ti sei mossa hai provato? l'ho fatto su di te te l'ha fatto qualcuno? io mi sono mossa perché hai spinto anche a me io sono mossa tu non eri radicata però hai visto quelli che non si muovevano? sì è rosicato un po' spero perché così la prossima volta impari a farlo o il prossimo seminario estivo dove vieni me lo chiedi e te lo insegni a fare perfettamente così se un domani vuoi fare l'albero come professione lo puoi fare mi piacciono gli alberi come professione? no allora ora me ne racconto uno sugli alberi io facevo crano terapia altri tipi che non insegno adesso e lì facevo sentire che forza c'era negli alberi se c'era la forza ascendente o discendente allora c'era sempre quella che vi ho raccontato che l'avevo fatta mettere a girare intorno al sedere di quello che era messo a quattro zampe no? e questa che gli apriva gli levava il mal di testa dal sedere davanti a un bar e poi sono entrate quattro persone e l'hanno guardata sempre la stessa era e allora questa ah qui la sento c'è la forza ascendente tutti tutti la guardiamo si scoppia in una risata generale aveva sentito la vitalità nel palo della luce quello di legno c'ero anche a questa a prano della via la più forte fu mentre stavamo praticando fuori sai passano gli uccelli fanno la cacca ma passano perilo d'attito perché uno un chilo e mezzo gliene cadde qui era pieno non so che uccello era ma ce l'era un chilo e mezzo lo riempì sempre all'aperto uno scagazzo dall'alto fu riempito completamente c'eri anche tu lì Francesca eh? o no? a Villa Maria non te lo ricordi sul prato di Villa Maria c'eri o non c'eri? a lezione no però mi ricordo quest'evento che tenne banco ma però il soggetto non me lo ricordo qualcuno che faceva pranoterapia sì sì qua me lo dirà in separata se no non me lo ricordo nemmeno io Chia io mi ricordo quest'evento perché fu una quantità allucinante io non ho mai visto un uccello farne tanta no io mi ricordo qualcuno ah sì sì il nostro amico che tu gli hai mandato la maledizione che ti cacasse un uccello addosso no no lì non gli mandai una maledizione lì fu fu una cosa divertente perché questo mentre facevamo un altro un altro mentre stavamo facendo la pratica lì eravamo a Rimini eh allora mentre stavamo facendo la pratica io venne a sapere con le mie antenne che gli aveva fatto la cacca addosso un uccello io però ero distante non dovevo saperlo ufficialmente come si avvicina ho fatto una meditazione che l'uccello ti ho mandato un messaggio e ti ho fatto fare una cacca dall'uccello ah sei stato tu ci aveva creduto ecco ecco sì mi ricordavo sfumato non mi feci fare la cacca dall'uccello tu rlupinai la situazione Irina chiuda il microfono eh grazie Irina chiuda il microfono grazie che ti sente l'eco allora vabbè questo insomma ci siamo dette queste cose quindi ti è chiaro un po' Iago o no sì ma più o meno ce l'avevo in testa volevo un chiarimento se fossero io o no sì ma non mi avevi c'avevi i piedi in testa sì andrino non mi avevo in testa comunque quest'anno quest'anno abbiamo parlato prettamente di sistemi parti del corpo organi quindi naturopatia però è una diagnosi fatta bene che se qualcuno non è stabile sui piedi c'ha qualche problema e chi fa yoga lo sa quanto è difficile stare in piedi da lì si possono evidenziare tante cose infatti ve lo dicevo anche ieri Jaina Jainisti quelli vestiti di bianco questi qui quando fanno ascesi quelle più drammatiche stanno in piedi comunque la loro posizione mentre nello yoga è seduto allora è la posizione in piedi dove loro stanno con le mani lungo le gambe che è una posizione scomodissima perché per fare meditazione si mettevano seduti perché è comodo cioè il fatto anticamente come dicevano per meditare stigramsukkhammasanam che la tua posizione sia stabile e comoda stare in piedi non è né stabile né comodo e dovevi starci in maniera stabile e senza muoverti quindi era l'esercizio di forza mentale pazzesco ma non è che ci stavano cinque minuti come noi facciamo le posizioni ci stavano per giorni certi per tutta la vita certi su un piede solo è un po' strano sono un po' strani questi personaggi insomma ieri ne ho parlato sul fatto che soffrire fa bene che ne pensate della storia di ieri sul soffrire fa bene lo vedremo a counseling questo bene ma che ne pensate c'è domani counseling Franci domattina 9.30 che idea vi è dato il fatto del soffrire va bene a voi perché soffrire va bene non capisco proprio questo a cieli ieri sì ma non ho ascoltato tutto e sono uscita prima e te si è perso andava a vista la situazione Antonella Antonella in quei giorni ha sofferto quasi tanto che quando è tornata alla normalità c'è stata tutta la botta inversa di piacere no ma lasciamo perdere adesso il fatto ma il fatto che soffrire fa bene che ne pensate adesso apprescinde lei secondo me no secondo me no secondo me no ma non fa senso anche solo a livello di lingua italiana insomma secondo me ha un presenso a monte no non fa bene ma non te ne rendi neanche conto quando sei mischiata dentro no 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 lei rivendicava quella sofferenza che faceva bene tu anche sei riuscita a dire che ti sei messa a piangere di gioia quindi anche se in PNL si afferma che la gran parte dei piaceri sono in realtà allentamento di sofferenza no no quello non è allentamento il soffrire fa bene che te aveva dato adesso non stiamo giudicando né la persona né l'evento ma che te aveva dato cioè rispetto a quella cosa sto parlando proprio emotivamente come dice ma a me come concetto mi sembra un po' sadomasochismo però vabbè forse sono un po' troppo estrema ma tu non l'hai fatta non l'hai visto tutta la storia no infatti buo e allora non puoi vedere perché tutta la storia c'era un motivo eh ovviamente che dava e che forse e che forse una sofferenza copre l'altra io vi voglio la sofferenza che è dentro io voglio appunto che diciate la vostra per vedere come perché ci si avvicina la verità dai Giussi vai che secondo me hai una sofferenza talmente forte dentro che quella che ti procuri fuori è sempre una sofferenza ma minore di quella che senti dentro però in quella maniera la sentiva anche dentro eh la deprivazione sensoriale il massimo che esiste è il bianco stai chiuso in un ambiente bianco con le luci bianche sempre uguali ti danno da mangiare bianco nessuno ti parla nessuno dice niente c'è il rumore bianco di fondo ci hanno ammazzato tutto il gruppo Badermainhoff in Germania perché lì le torture le fanno bene pulite bianche e capito la deprivazione sensoriale è una delle sofferenze più grosse che c'è però tu stai dicendo una cosa interessante no? vuoi che dire? ma secondo me sono anche schemi culturali religiosi o quant'altro insomma sono impressioni con le quali quanto meno in Italia si desce tipo se non soffri non ti meriti il paradiso oppure donna partorirai un dolore davvero sempre d'accordo lei ha descritto un evento una situazione eccetera che dava riflettere questa cosa o no? sì certo comunque il nostro emotivo si nutre di di emozioni che danno piacere sofferenza in qualche modo potrebbe andare alla ricerca di emozioni forti a prescindere dalla valutazione e avendo paura del piattume cioè non il nostro di tutti io stavo stavo dicendo la valutazione di questa tipologia proprio nel caso specifico o analogo dove Giussi è entrata un po' nello specifico voi state scivolando in generalizzazione no? Giussi ma perché un po' mi sono rivista nel senso che quando ci sei dentro a questa sofferenza non te ne rendi conto nel senso che ti procuri della sofferenza esterna sai che ti fa male ma è preferibile quella sofferenza piuttosto che sentire quella che hai dentro quindi ti copre secondo te quella interna esatto o ti copre o ti sostituisce secondo me è più forte di quella che c'hai in modo che quando finisce quella quella che avevi prima riesci a metabolizzarla meglio ma la copre e basta la nasconde dietro un altro dolore ma il dolore è sempre la copre e basta no perché lei ha detto che l'hai risolto dopo dal tono di voce che ho forse la sostituì il dolore della perdita è stato troppo grande non poteva essere elaborato e quindi ha elaborato un altro tipo di dolore sempre forte causandoselo su se stessa probabilmente è riuscita così a pensare diversamente sul dolore vero che è quello inelaborabile insomma Jacopo allora tu dici non l'hai elaborato ma è uscita con lo stesso dolore con la stessa intensità o comunque quell'interno gli è diminuito secondo te attraverso questa pratica l'hai diminuito ma poteva farlo anche in più tempo andosi meno cazzotti addosso ma non c'entra niente questo parliamo sullo specifico c'è una cosa lei ha detto erano sei anni otto anni che tribolava terribilmente e dopo di quello insomma ha ottenuto un modo di vivere no? perché è interessante comunque qualunque cosa ci sia a prescindere se uno lo farebbe o non lo farebbe quello che è successo perché allora uno probabilmente capisce perché c'è l'ascesi che c'è dietro alla scelta cioè lei ha detto dimmi giusi dietro la scelta c'è una grossa sofferencia? che ne so che dietro la scelta c'è però tu che pensi che se fosse questa la la spiegazione che lei dopo una settimana non ne poteva più e quello ci rimane per anni che c'ha da avere dentro la scelta? una grossa sofferenza terribile no? sì perché quando poi propongono l'ascesi cioè fa attenzione parlando di questo ovunque quando uno va nei sentieri spirituali che sta cosa io più più dico spirituale più mi si accappona la pelle ma vi propongono l'ascesi? faccio una domanda l'ascesi normalmente chi è che la fa? i religiosi eh? i religiosi? no i religiosi fanno una pratica monotona ordinata sempre uguale è quello che nell'ayurveda si chiama una buona condotta di vita la monotonia religioso è regolato su tutto ma di clausura però sono più che avvicinano più a questo discorso non mica fa una scesi prega mangia caga dice il rosario mentre fa la cacca non fa scesi cioè è normale flagellarsi prendere il cilicio durante in un monastero faccio una domanda nostro o indiano normale no no quindi la scelta è una cosa diversa la regola si chiama la regola no quello che si chiama mi ama in sanscrito la regola si chi è è un è un ascesi no però è una rinuncia ha un sacco di piaceri no è una regola è una regola è una regola non è una rinuncia è una regola segui una regola una una regola di vita anche le leggi nostre sono una regola di vita no si io ogni tanto quando sono nervoso un omicidio o almeno un'ampurazione di qualche arte a qualcuno mi scaricherebbe i nervi tanto volentieri quindi rinuncio a dei piaceri sadici che mi alletterebbero e non hai che ridi pure tu e non ridere Clara roscia di capelli demonietto allora ben nascosto manco ben nascosto ok quello che invece lasciate chi è va in un monastero l'ascena può ritrovarsi in un monastero ma l'ascena è solidario come il verme fa da solo si mette da una parte fa per conto suo è un oranista religioso e si mortifica fino al punto in cui riesce fino al punto in cui gli serve si flagella si fa male digiuna fa tutta una serie di cose ovviamente le attribuisce a un dio perverso ma siamo sicuri che lo fa per Dio che poi per Dio è una bestemmia non siamo sicuri cioè magari se lo dice o lo fa per quello che giustamente Giussi ha descritto per coprire una sofferenza più grande che sta dentro e per non dire c'ho la sofferenza più grande ci mette una qualità spirituale che ne pensate? sono tutti mezzi che si dà delle scusanti mi ricordo si dà delle scusanti cioè che lui si procura dolore dicendo che per un dio o per qualsiasi altra cosa dicendoselo 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 sono solo delle scuse c'è tutta una tradizione che dice che anticamente si abbandonava la famiglia dopo una certa età per andare poi da soli in un aeremo e fare ascesi quindi lì non c'era la sofferenza come no? Lucia non abboccare queste cose faceva parte della tradizione quindi voglio dire che lì erano delle condizioni era l'Inps chi lo faceva fare perché quando non erano più produttivi li portavano nella foresta e abbontanavano lì mentre come dico spesso nel 1500 in Francia quando nonno non produceva più se lo caricavano sul gruppone lo buttavano nella senna allora questo meccanismo questo meccanismo viene poi canonizzato in modo tale di senti invece che te ci porto io prendiamolo religioso ci vai tu quelli sono i quattro prima sei prima devi essere un discepolo poi devi farti costruire una famiglia farti una carriera e poi andartene quello che sta dicendo sono i quattro scopi della vita i quattro atti della vita indiana poi te ne devi andare a meditare nella foresta ma hanno canonizzato hanno reso spirituale un fatto di lascio nonno dentro la foresta così risolviamo il problema che noi gli diamo più da mangiare quindi non è anche lì mi sembrava di aver capito che erano ancora in forze quindi non erano alla fine della loro della loro vita queste persone ma passava magari ho capito male sì ma quando era ho letto male no allora le cose poi quando vengono regolate comunque c'è quell'altro che era più efficiente e prendeva il potere dei papà no? non succedeva come in Inghilterra che la regina si viene a potere fino fino al pronipote insomma ci lascerà tutti adesso sta a me sono più efficiente io e quindi tu vattene però il principio da cui parte era proprio un principio di quando non sei più efficiente alla società la società ti espelle molto cinica come cosa tenete conto che la storia del cristianesimo non c'era queste idee di fratellanza questa idea di curare il debole non c'erano il debole dava fastidio i romani li buttavano dalla rupe insomma quindi non c'era nemmeno il culto della vecchiaia lì un popolo se è guerri immaginate un popolo guerriero quando uno comincia a diventare panzone scorreggione se lo tieni ti fa più danno e quindi immaginate tra i militari tanto vale che lo mandi sul terreno minato così si diverte un po' riprende un po' di brio la vita però tu non svigolare dalla storia chi è che fa la scelta padre Urio quando è stato esaminato dal presidente dell'ospedale psicoanalitico e dice che lui si grattava e si faceva le ferite e quindi l'hanno visto come imbroglione ok poteva essere imbroglione con un fine e si metteva gli hanno trovato proprio le ricette che prendeva in farmacia una cosa per non far cicatrizzare le piaghe che lui si procurava da solo dove stavano le stimmati ma se noi prendiamo invece semplicemente il lato psicopatologico di padre Pio lui facendosi le stimmati soffriva come Gesù era come uno che si flagella col cilicio leggiamolo anche in un senso non di truffa che poi la persona un po' truffa un po' fa e la persona non è perfetta quindi può averci altre cose però il farsi male come si faceva male Dio come si faceva male Gesù ma dentro che c'era a questo uomo che poi cazziava tutti aveva un dolore di menza sicuramente non apprezzava la vita non apprezzava la vita non apprezzava la vita ma dentro che c'era io voglio dire dentro che c'hanno questi che fanno l'ascesi quindi l'ascesi probabilmente fanno un odio che reprimono e dicono di amare tutto quanto lascia perdere adesso il valore negativo verso i terzi ci hanno questo senso di frustrazione enorme ok in cui probabilmente come dice Giusi dolore esterno mi limita mi controbilancia mi allevia il dolore interno no? C'è posta o no? Che dire? Sì Sì infatti quando vi spiegavo che Buddha poi ingrassò si vede proprio nell'immagine e morì in digestione è proprio l'esempio l'esempio di uno che non aveva mangiato niente che ha visto le dispense di di digiuno fatto vedere l'immagine del Buddha è impressionante o no Antonino? Sì sì è una pallotto lui diceva che mangiava un chicco di riso al giorno cioè nelle agiografie si è poi esagerati e l'immagine era proprio quando si dice pelle e ossa quell'immagine era proprio pelle e ossa una mummia è molto più polposa di quell'immagine del Buddha giusto? Tecnicamente i muscoli non li dovevano ritornare era ormai nella fase irreversibile quando uno a livello di medicina si arriva a quello stato muscolare ormai è finito però adesso a prescindere le esagerazioni che fanno Buddha infatti a un certo punto disse risolse il problema che sto facendo ma che ci faccio con l'ascesi ne con l'ascesi e poi a me quello che fa ridere è che questi gruppi che si rifanno al buddismo creano l'ascesi anche quando vi ho spiegato il Soto Zen che fanno vari monasteri giapponesi la deprivazione sensoriale totale su un muro bianco è allucinante provateci che fa Laura? ci fa un balletto sono andata in bagno a fumare sono ritornata adesso in sala povera Laura che fuma in bagno ma l'ho deciso io comunque io ho avuto due persone che ho visto in webinar dal bagno una quando era ieri o l'altro ieri e un altro durante una lezione di counseling mi sembra di pranoterapia poi gli faccio mandare al bagno e gli dice è l'unico posto da cui si sente vabbè però almeno levami la asciugamanetti facciamo finta che non si veda che stiamo inquadrando il bivè con la tazza vicino no? mi sembra che la pranoterapia sì ma poi l'ho rivisto ieri o l'altro ieri c'era un'altra inquadratura di un gabinetto no era forse una camera da letto e vedevi la porta del bagno cioè che poi era aperta verso il bagno no no c'era tutto il bagno che si vedeva chi è che mi dice sì l'innominata chissà è serena l'hai visto? sì 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 rambagno rambagno assolutamente è è buffo perché si riesce qui noi riusciamo a vedere tutto e di tutto no? ma può essere anche per me è divertente il problema mi sorge sempre quando l'Europubblico dice ma che gente frequenti perché poi come immagine c'è sempre qualcuno questo però è il bello del webinar insomma seduti sulla tazza potete seguire il webinar e mangiare un panino quindi fate tre cose insieme guarda guarda che sorrisi che ha fatto Luisa finalmente non ci aveva pensato allora Jacopo ha portato un esempio cioè ha chiesto una cosetta vabbè io ne ho introdotto un'altra che è partita tutta dalla stabilità non sta anche a voi dai andiamo avanti io ho tre giorni di dura lena e poi farò l'ultima domenica pomeriggio l'ultima l'ultimo incontro di yoga della potenza gratuito quindi chi ama seguire quello adesso non so che faccio ma era venuto in mente di rifare la cascata di fare un pezzetto sulla cascata che è molto bello e Francesca potrebbe fare in uno dei suoi qigong la cascata lo stesso che nel qigong è altrettanto bello eh sì io tra l'altro l'ho introdotta nello yoga della potenza dal qigong sì una domanda che non c'entra niente farmi ti individuare eh sono sempre io Giussi Giussi allora no perché vorrei se riesco se non lavoro vorrei fare yoga della potenza che farai domenica quando eh lo sa Francesca quando? eh speravo che non me lo chiedeste ma vada a vedere ma no guardo poi ci è segnato sulla scusa vabbè tu vai a vedere così e vestiamo alle 16 16 19 30 eh il mio problema è un altro perché io non ho il computer sto facendo tutto sul cellulare no? eh quindi se sono in webinar come adesso posso ricevere vedo se ricevo una telefonata perché sono reperibile quindi facendo tutto col cellulare sì l'uomo del mondo ha detto sì no perché mi è successo a me anch'io vedo webinar col cellulare però se li chiamano eh puoi rispondere puoi rispondere tranquillamente mi arriva la telefonata sì ti arrivano puoi rispondere tranquillamente ti dà le opzioni di ricezione o annulli la chiamata puoi rispondere tranquillamente però mi ha chiamato io ho comprato un tablet dei miei a 69 euro e vabbè ma lo puoi comprare online? certo lo puoi comprare online e lo so ma guardi su Amazon ci stanno le offerte ce l'ho pagato 69 io ho l'iPad dei 1000 passa un euro se vede uguale quello da 69 euro non è il problema dei soldi è che io non sono mai a casa e comprando online la roba a casa non mi arriva ma ci stanno i punti di raccolta è un casino non sono mai riuscito a trovare questi punti di raccolta ma guarda se tu lo vedi te lo danno tipo la tabaccheria vicino ci stanno un sacco di posti dove ti li possono dare oppure a volte si dice presso un vicino te lo lasciano fuori cioè Amazon ti fa di tutto è un negozio che sta sotto ma che negozio sono chiusi ah no in quel senso vabbè per questo weekend non riempi ma certo però sto dicendo fatevi un tablet chi c'ha il telefonino perché se fa veramente a due soldi e le tastiere quelle se uno vuole farci il computer costano anche lì wireless 12 euro cioè oramai per chi non lo sa usare però c'ha un simil computer no ma io non è che non lo so usare è che non devi avere internet in casa giusto? no basta che ci trasferisci internet dal telefono si chiama tethering cioè trasferisci ti fa da da modem cioè oramai queste sono delle robe il tablet non serve a niente però serve a vedere con una grandezza decente secondo me c'è il telefono e il computer però se uno il computer lo usa pochissimo il tablet costa due soldi a quella cifra il computer non lo trovi questo ve lo dico in assoluto no anche per rivedervi i video che facciamo le cose il telefono spesso è troppo piccolo un 10 pollici di tablet è già accettabile chi è che murgisce? allora vi è venuta qualche ideuccia in mente che io devo rilassare il cervello ciao Rita non ti si vede più vicino ormai ti vediamo solo a distanza gli incontri ravvicinati sono finiti no no come no 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 ci sono solo che come al solito ho sempre mille cose da fare senti poi ti volevo fare una domandina vediamo una curiosità cosa ne pensi ma poi ti spiego anche perché te lo chiedo di Sai Baba Sai Baba chi era in effetti chi è? allora sai perché scusa ti posso spiegare anche perché così dopo perché mio zio che adesso è defunto praticamente ci si è praticamente rovinata la vita nel senso che aveva una bella pasticceria a Leonessa e gli ha dato più soldi che tu neanche te lo immagini allora cioè nel senso che adesso è morto e c'è a parte che tutti sanno che era Arnold da grande Arnold il famoso Arnold il negretto piccolo adottivo in quella famiglia con altri due fratelli e un padre quando è cresciuto è diventato serbato ma dai beh sì e come Telma e Massimo Boldi lo sanno tutti allora a prescindere adesso da questo esiste tu ti devi compulsare semplicemente un sito che ancora ci sarà prima era fatto perché ci furono degli scandali enormi che partirono quando si inchiappettò un ragazzo svedese in Svezia non fanno tante storie uscì questo scandalo si ripercosse in Inghilterra l'Espresso gli dedicò un mese su queste cose la Repubblica pure uscì uno scandalo di dimensioni internazionali e nel frattempo ci fu un sito che si chiamava exbabba.initaliaet in tutte le lingue del mondo io mi sono letto 140 recensioni quella più che mi ha colpito di più ci sono stati tre morti assassini cose eccetera quello che mi ha colpito di più è stato di un ragazzo che i due genitori erano teori di Sè Babba adesso vai da Dio perché era Dio Sè Babba no che mi si incula no non è vero il diavolo che te lo dice no mi si incula aveva 12-13 anni perché era pedofilo no no e questo qui era costretto dai genitori ad andare lì e Sè Babba se li inculava regolarmente questo è riportato nel sito però insomma tu vedevi il ragazzetto che non poteva sfuggire i genitori ce lo portavano lui glielo diceva no non è vero è il demonio che te lo fa dire lui è Dio e Dio non ti si incula invece era pedofilo sembra però te ripeto a me non l'ha fatto appunto prima relata refero quindi cose però ci sono stati scandali di carature internazionali ha capito ma lui che cos'era un sensitivo un che cos'era un mago un prestigiatore imbroglione lui quando andò un imbroglione perché lui quando andò uno di quelli ascolta no fammi parla a me uno di quelli il cica nasce in america no c'è questo prestigiatore americano che scopre tutti i trucchi ne mandò uno da sei babba e gli dettano un fracchio di legnate quando se ne accorsero però lui come faceva lavi buti lavi buti vuol dire una sostanza spirituale che scende prendeva palline di sterco di vacca mescolate con l'incenso che ne metteva cinque tra le dita e poi ne prendeva una la sbriciolava e faceva vedere che dal nulla materializzava ma lui era bravissimo nel materializzare orologi di marca svizzera sì lo volevo dire questo cioè mio zio a un certo punto ogni volta che andava gli materializzava sempre questo citizen peraltro di marca svizzera sì anche anelli no quello era giapponese il citizen cioè non materializzava una cosa che non esisteva era tutto ciò che poteva stare in una manica infatti ci andarono i prestigiatori erano trucche ma sai se la persona vuole trovare il misticismo chiude gli occhi a tutto insomma però il ragazzetto veniva inchiappettato i genitori non ci credevano questo era il dramma non nei genitori sono stupidi e gli danno tutti perché all'idiozia non c'è limite ma quello che non c'entrava niente tu immagini a che punto si arriva ma guarda tu prova a battere exbaba.it e te leggi una serie di storie che se sono vere sono impressionanti però ci sono stati ti dico scandali che sono dorate anche in Italia un mese i telegiornali l'espresso la repubblica quindi fonti attendibili Svezia Inghilterra anche da altre parti del mondo probabilmente gli inchiappettati del mondo a un certo punto hanno si sono aperti a tutte sole da Yogananda in giù tutta questa serie di persone vanno a vedere sulla povertà di certe persone si approfittano del dolore si approfittano sono connimenti tutte e due cioè chi ci va è lui che gli fa la sceneggiata alla fine grazie ma manco vuoi dare la colpa insomma perché i praticanti di Sai Baba sono dei Sai Babbei si infatti per carità lui ma Porello poi quando è morto mio zio la sua tomba mi ha inquietato proprio ultimamente l'ho vista no senti ha fatto una lapide con Sai Baba ma tu devi vedere enorme si è messo nella luta a terra con Sai Baba enorme con sta modo tipo un un decoupage ci ha fatto lui è Sai Baba ma lui diceva di essere proprio Dio e tra l'altro i più grossi quelli che c'erano di più Sai Baba erano gli arei Krishna perché lui si programmava Avatar e non fa parte degli Avatar canonici perché l'ultimo che ci sarà che segna la fine del mondo il penultimo è stato Buddha che per che per loro era la reincarnazione della menzogna cosmica tanto per dare idea di quanto ci vanno dedicati pure i vishnuiti e c'è Calchi il cavallo bianco si chiama Sai Baba non c'entrava niente cioè gli Avatar appartengono al sistema Vaisnava e quindi quando questo si mette a fare l'Avatar si incazzano a morte quindi se volete avere un giudizio molto critico ho sentito una reglisa dove sono pacifici su tutto meno che su Sai Baba mentre il loro maestro Prabhu Pata che sta ai piedi del signore che manda luce Pata vuol dire i piedi Prabhu è l'aura luminosa che si effonde dal Dio Visno c'era tre fabbriche d'armi ma anche il Vaticano sembra insomma forse qualcuno ce l'hanno avuto in comune perché è bello che più ti parlano di spirito più dietro gli scopri degli altarini ma c'era un giro dei soldi se è baba enorme per cui corrompeva la polizia perché ci sono stati vari omicidi sì sì ma lui ci si è veramente rovinato cioè è mandato veramente in malora tutta la baracca per Sai Baba andava comprava gli portava tipo le penne per i bambini non so comprava cose da cartoleria poi diceva che faceva del bene diceva che faceva del bene mandava delle molliche Sai Baba sì è vero era un avido comunque vabbè questo ma grazie ma ci fu una cosa interessante turisti per caso non so se ve la ricordate la trasmissione andarono e intervistarono uno italiano che c'era il chioschetto lì vicino e gli chiesero su Sai Baba non mi ricordo se era su Sai Baba o su Aurobindo ma mi dice se a voi mi piace quella spiritualità gli disse per esempio Aurobindo un altro pure un'altra sola gli abitanti che stanno lì intorno non lo possono vedere è tutto per turisti americani ci stanno un sacco di retroscena che noi non conosciamo e gli indiani che per esempio stimano Aurobindo non perché fosse una guida spirituale ma perché era l'equivalente del nostro Mazzini quindi uno che ricercava come Gandhi la patria Gandhi un'altra sola quando vi dicono che era buono buono lui ce l'aveva a morte con gli intoccabili si scontrò con il capo dei comunisti indiani se tu vuoi portare con noi gli intoccabili io farò digiuno a morte e darò la colpa a te perché schifava gli intoccabili eppure che passa fuori cosa passa a voi di Gandhi che lui amava gli intoccabili certo davvero ci stanno documenti a questo a Ca' Fosca io già lo sapevo ma me l'hanno ribadito lì ce ne sono io l'avevo letto lì c'erano i documenti ragazzuoli se c'è un'altra domanda perché io se no mi ritiro ce l'avrete un'altra domandina chi è? chissà la domanda non ce l'ho però ti volevo dire che quella abbiamo fatto l'altra sera con me insomma l'immagine la tecnica peccato che non ti senti ha funzionato mi senti? si ora si mi sentite? si e adesso non più allora dicevo ha funzionato non so come fai ora mi sentite? io ti sento probabilmente sei tu che non la senti io sento io la sento bene e che ne so come è funzionato io pensavo che fosse per tutti ma come tu lo dici? ma proprio tu sei babba ti fai dispetti ti sentiamo sei babba ti fai dispetti l'ho bit povero vabbè insomma ha funzionato? ci provo allora ha funzionato e l'ho diciamo che è stato nel senso riprovato a riportare l'immagine dei giorni a seguire e è diventata sempre più sfumata cioè già era poco visibile adesso non la vedo più anche se voglio cercarla non la trovo e sei contento? quindi grazie e sei contenta? sì sì sono contenta è giusto Giussi che si è rifiutato di farla te devi mangiare le dita Giussi sì sì comunque dato che domani ci abbiamo counseling e se ti inserisci solo per un pezzo te la possiamo fare lì apri l'audio giussi stai dicendo a me? sì a che ora domani? allora non puoi seguirti tutto il counseling ma c'è dalla mattina alla sera tu entri quando vuoi fai la cosa e te ne rivai ok? ok io la domanda ce l'ho e la vorrei proporre a tutti quanti insieme a dita la vostra abbiamo parlato di Sai Baba come approfittatore Santone e cosa spinge questi tra virgolette Santoni a essere così approfittatori e dare l'immagine che si chiama realtà dei Santoni è facile si nascondono dietro non sono Santoni sono approfittatori sono maniaci si nascondono dietro con l'immagine in modo tale che diventa pubblicamente accettato allora chi non muoversi tranquillamente chi c'ha più coraggio diventa mafioso anzi chi c'ha più coraggio è un criminale comune chi ce n'ha un po' meno diventa mafioso chi ce n'ha ancora meno diventa un guru chi ce n'ha ancora meno fa il politico quindi la cosa più bassa che c'è è politico oh ci scherzo però che dite? che sono approfittatori che indorano la pillola per far credere alla gente determina altre cose poi sfruttarle e li manipolano si approfittano di quelli più deboli e beh mica devo approfittare di quelli più forti Laura chi si approfitta di quelli più forti è Robin Hood che però non è ben visto dalla Confindustria cioè non è tra gli eroi sponsorizzati della Confindustria mentre dal gran suo capitalismo chi si leggeva Alan Ford chi è che conosce ancora Alan Ford c'era Superciucche che rubava i poveri per dare ricchi anni 70 era carina come cosa e il suo emblema Superciucche c'era un fiasco in mano calzamaglia tipo Robin Hood però lui rubava i poveri per dare ricchi è vero e vabbè ma l'umanità ma poi la degenerazione quando fai queste cose progressive perché a un certo punto man mano che ti danno consenso ma guardate gli attori che pontificano su tutto e su tutti io adesso ho sentito ho pubblicato anche su Facebook un'intervista di Scanzi che ce l'ha contro Sgarbi scusate Scanzi chi è? nel delirio suo sembrava Dio in terra Scanzi eh? voi immaginate un grosso personaggio ma tutti fanno quella fine alla fine Fellini era noiosissimo pontificava su tutto perché man mano che tutti ti doradreggiano tu sei portato anche senza volere anche senza volere ad avere questo atteggiamento superiore pensateci un attimo cioè è una cosa progressiva per cui perdi il contatto con la realtà e pensi che tutto quello che dice è giusto quello che fa è giusto e diventi arbitro della vita di tutti è giusto che ti tirano tutto perché comunque gli porti il benessere cioè la malafede c'è quando tu sei il piccolo truffatore di strada che ti vende il Rolex falso ma quando arriva a quei consensi c'è l'identificazione con il personaggio il guru per esempio è un poveraccio lì c'è c'è stato un personaggio equivoco come tutti si allargano tutti poi i francesi ancora di più Fulcanelli che è stato considerato il più grande alchimista del secolo scorso e il suo allievo che ha scritto varie cose interessanti Chancelier Fulcanelli parla ha scritto le dimorre filosofali il mistero delle cattedrali dove ci stanno delle cose interessanti da leggere molto misterioso come vogliono fare tutti gli ermetisti se no che ermetismo sarebbe insomma e comunque se la tirava e faceva il maestro Chancelier invece a 84 anni scrive io non sono un maestro sono un vecchio allievo perché sono sempre alla ricerca di capire qualcosa di più e a me mi è piaciuto tanto questa definizione del più famoso allievo di Fulcanelli Chancelier sono un vecchio allievo quindi uno che cerca che non ha le stesse cose le dice Grodek nel libro dell'Es o no forse nello scrutatore d'anime ricerchi ricerchi su una cosa immensa e quando è che sei arrivato mai quindi sei sempre un vecchio allievo poi secondo me manco agli odichi se c'è una cosa bella nello yoga l'antar guru guru di te stesso prima hai il guru esterno una persona di riferimento il mentore c'è posta è ovvio anzi forse è necessario però alla fine sei te stesso il maestro il riferimento e quando sei te stesso ci stanno due cose o ti sei riempito perché c'è il cervello piccolo piccolo e quindi sei pieno di te perché sei tutto oppure ti accorgi che non sei niente o sei una briciola e allora ti piace stare alla ricerca costante senza per seguire più una regola un maestro ma semplicemente cercando di saperne un pezzetto di più mi piace questa visione a voi Roberto chi sei tu? si ma non è un po' come il percorso anche con Alessandro l'anno una volta detto Alessandro mi senti? forse è la linea mia che ti dico ma si sente? infatti la mia connessione è instabile mi dice sì è la mia io si sento e perché lui sta a Milano lui sta a Milano vuoi stare a Milano e ci stanno no no sto scherzando cioè è la connessione qui in stanza io sto molto lontano dal modem perché c'è anche questo dimmi dimmi no dicevo ma non è questo concetto questo questo percorso mi fa pensare un po' anche al percorso che c'è nello yoga tante volte cioè nella crescita che uno fa e che quando raggiunge un certo livello poi in realtà si accorge che si apre un altro mondo e quindi deve si trova di nuovo come dire a iniziare un percorso nuovo io la dico così arrivata in cima della collina c'è un altro orizzonte senza andare su un altro mondo una volta che sei arrivata in cima della collina faticosa c'è un altro orizzonte e quindi a voglia anche quando si parla di chakra lì lo facciamo perché è tradizione però in realtà anche lì si erano un po' allargati a mio avviso col periodo storico mi sentite voi? perché ho paura che se non sento bene io non sentite nemmeno voi si si vedo le immagini statiche fisse che vedono mobili comunque che vi devo dire queste sono giudizi vostri personali però a me quella frase di chancelier mi è rimasta dentro e mi è piaciuta allora non vi sento più no non si vede no io Jacopo se parla lo vedo ma sento ma io rito sempre e tu mi metti una cosa che mi ha da ridere è il mio carattere mi facevi morire questo gioco mi metteva mi ha rimesso mi ha rimaterializzato oh io mi sono sempre visto no no io mi vedo lì davanti noi no non ti vede davanti no non ti vede sì ma c'è evidentemente questa connessione qui io ho un problema c'è il fastweb già l'ho spiegato una volta fastweb non è una linea come le altre è un anello io sto in quell'anello che va alla repubblica e in mezzo ci sta quello che mi vende i computer che sono anche quelli che fanno tutto il layout della repubblica e dell'espresso e a una certa ora lo mandano alla repubblica intasando completamente fastweb che gli dà la linea prioritaria e se la mangia a tutti gli altri perché sono tutti birbaccioni non è che ognuno ci trattano uguale e quando quando non succede questo ho delle velocità impressionanti e ancora non c'è la fibra ottica la stanno mettendo adesso ma quando con questa fibra normale passano alla repubblica dovrei mettere il cellulare però io dopo ho paura che se ne vada la linea e poi adesso ci stiamo salutando quindi forse forse di necessità bisognerà salutarci comunque l'ora è tarda è un'ora e mezza più che stiamo insieme io domattina mi devo svegliare di buon'ora perché devo continuare le dispense di naturopatia e questo mi succederà anche sabato mattina sabato mattina che c'ho Francesca? naturopatia naturopatia e quindi manco c'ho c'è lo solo sabato mattina o tutto sabato? no c'hai sabato mattina sabato pomigio domenica mattina ah eh e quindi comunque un pezzo lo farò pure domenica mattina perché faccio a tranche anche perché c'erano varie cosette spocchiose da vedere sia sui gemelli che sulla bilancia perché da una parte ci stanno tutto un grosso problema sulle ghiandole surrenali e dall'altra parte tutto una serie di sistemi che concernono anche i gemelli di organi che poi vedrete perché io l'ho sempre fatta semplice in realtà analizzandola un po' meglio ci stanno un sacco di particolari che non hanno visto i fuori il che e quando li trovi ci vuole poco ma poi gli devi dare da magnasti particolari dice come li curi? e quello è un po' il problema perché certe cose cure quintessenze andavo liscio che ce n'è una che rimangono sempre un capolavoro però visto che ormai ho presa la fissa e tutto sicuro con l'alimentazione mi sono incastrato da me e quindi la devo dare ben fatta anche se io ritengo che quella generica funziona bene però trovando anche quegli aspetti un pochetto specialistici alimenti per la sinusidea faccio un esempio sì fuori sono dopo domani perché tu sei c'è la sinuside Alessandro ma ce l'ho avuta per tantissimi anni poi ho eliminato i formaggi ho eliminato ho iniziato a fare l'alimentazione però tu fai yoga e i granini sì e quelli sono quelli generici dell'elemento aria ma non sono gli specifici per la sinusidea sì però ogni tanto mi torna tu fai yoga no? sì ecco allora una wild card per sentire l'alimento aria della do quando facciamo una doluvaria però forse non lo vuoi fare perché c'era i françoise e quindi o vuoi imparare quello te perdi il françoise da qualche parte c'è no domani non c'è e sabato e domenica c'è yoga posturale ah quindi no quindi puoi venire anzi addirittura solo sabato c'è yoga posturale ah no sabato e domenica sì comunque non c'è yoga insegnante comunque tu hai una wild card per partecipare solo all'elemento aria solo all'elemento gemelli ok quindi alla sinuside dopo lì ti posso anche far restare però io nei corsi una due tre le posso dare non scrivere sul mio whatsapp scriverò a barbara ecco bravo a chi scrivi no sto dicendo quando tu dici queste cose io mi ritrovo piena di messaggi quando Roberto fa da che ora a che ora Roberto fa l'elevento aria o no a barbara vuole scrivere ah certo scrivi a barbara io rispondo sicuro no scrivi a Elena comunque il 393 è Elena ah Elena ok forse perché sono memorizzata come barbara forse allora sì l'anno scorso sì ma tu se mi vuoi fare una cortesia chiamala barbara poi se ti dice sono Elena sì vabbè ma siete uguali guarda la reazione guarda la reazione perché questo meglio di no sì e c'è maura di Elena e poi mi mi esclude dai gruppi no e cavoso io non può fammi questo io ti faccio entrare però tu gli devi fare questo gioco a Elena che a bocca sempre no ma pensavo che foste parenti a bocca sempre su questo è divertentissimo guarda Luigia come rive è pessima Luigia no perché mi immagino la reazione che avrai Elena se gli dice che l'ha scambiata per parte no scambiata pensavo che foste parenti ah ecco è peggio vedo tante similiche benvenuti mi sarebbe piaciuto essere come Barbara comunque adesso a parte gli scherzi io eh sì nel counseling si spiega su ragazzi dai fatemi fatemi giocare io purtroppo sono giocherellone va bene va bene si va a nanna hotel ma vi ama ok però non ci possiamo lasciare senza un pensiero poetico la poesia eccomi per farvi fare dei sogni parleremo della luna il magnetismo della luna è una forza spettacolare che molte cose va ad influenzare a me fa volare su di un carro di luce ad una potenza stellare quando è piena ho voglia di cantare e ballare e quando c'è l'eclissi un po' la testa mi fa girare ed un grande caldo dentro di me fa circolare il mio rapporto con la luna è speciale e se la guardo mi saprà consolare grazie buonanotte a tutti un bacione a tutti a tutte ciao buonanotte un bacionissimo a tutti ciao a tutti ciao ciao